salve a tutti ragazzi bentornati su farming simulator 22 oggi vi porto un veloce video dove voglio informarvi che se andate sul sito di epic epic game store avete la possibilità di scaricare il gioco farming simulator 22 gratis ebbene sì gratis avete tempo fino al 30 maggio e lo so che la maggior parte di voi già ce l'avranno il gioco ma questo video diciamo che è rivolto soprattutto a quelle persone che non lo hanno che non hanno mai comprato perché avevano dei dubbi sul gioco e adesso insomma avete la possibilità di scaricarlo direttamente da qui quindi avete tempo fino al 30 maggio andate sul sito di epic game store che è questo qui andate qua omaggi in evidenza e aprite eccolo qua farming simulator 22 ora gratis ok vedete gratis da ora fino al 30 maggio del giorno fino alle ore 17 del 30 maggio ok ci cliccate sopra sicuramente sicuramente non sarà la versione platinum o premium sicuramente sarà quella base comunque sia qua mettete un attimino la vostra età eccolo qua vedete ragazzi da 20 euro che lo trovate qui sul sito costava sul 19 99 adesso potete scaricare gratis basta che andate su ottieni e lo scaricate quindi diciamo che vediamo se se dice che cosa aspettiamo un attimino allora entra in una carta bene da una carriera ok però ci sono anche i cicli stagionali ci avrete sicuramente il class xerion sad track pack da solo questo qua raga è e si raga questo qua poi vedete poi il season pass questo lo dovete comprare a parte però intanto potete avere il gioco base a gratis e questa cosa cosa ci fa pensare ragazzi che ormai secondo me ormai è imminente il l'annuncio del nuovo gioco quindi io penso che a giugno uscirà il cinematic trailer del nuovo gioco perché ormai penso ci siamo perché nel farming stavo vedendo un attimo che quando è stato annunciato farming 22 il cinematic trailer del gioco è uscito proprio a giugno quindi io penso che ormai ci siamo il fatto pure che adesso è un gioco che lo danno per un periodo gratis vuol dire ormai ormai ragazzi farming 22 sta proprio agli sgoccioli quindi vi ho fatto questo video per informarvi insomma di di questa di questa cosa spero insomma che vi è stato utile ok ragazzi io vi ringrazio iscrivetevi al canale lasciate sempre un bel pollicione a nizzù e ci vediamo alla prossima ciao a tutti